Qual è la filosofia di Warrant Group e qual è il vostro contributo qui a Let's? Warrant Group è una società di consulenza privata con sede a Correggio che è organizzata in sei diverse aree di business, in particolare quella presente qua oggi, la European Funded Division, che ha un'area dedicata esclusivamente alla finanza europea. Qua al nostro stand oggi sono presenti alcuni dei risultati dei progetti di ricerca attualmente in corso finanziati dalla Commissione Europea, per la precisione 12, e si alternano nelle varie sessioni i primi risultati prototipari di questa ricerca. Il contributo che diamo è quello di cercare di aiutare il Paese a restituire e portare in Italia, insomma, fosse anche solo un euro in più di quello che ci mettiamo come Paese per finanziare la ricerca europea e in modo particolare c'è la sessione di domani, che è la prima sessione che facciamo in cluster con altri progetti, con l'idea di portare concretamente dei risultati alla fine di questi finanziamenti.